Musica Oggi si apre il ciclo list del mito settembre musica, qui ai Filodrammatici, al pianoforte Gianluca Cascioli. Non perdetevelo. E' un ottimo inizio e Cascioli mi fa tenerezza a rivederlo e risenterlo oggi dopo averlo sentito in tante altre parti del mondo. A me è molto bello, mi piace particolarmente per via, perché viene festeggiato, diciamo, celebrato l'ISTS e quindi è uno dei miei preferiti. E' molto interessante che ci sia una rassegna su questo compositore in questo festival. Ti ho presentato in questo concerto due brani dell'ultimo periodo che sono Venezia e Noage Gris. Un saluto al pubblico di Mito. Un saluto al pubblico di Mito.